La chiusura di una tettua aperta tramite pannellature infissi o anche con quei sistemi tendonati, con quei teli retrattili che praticamente vanno a fare chiusure pareti mobili, quell'intervento lì non è edilizia libera perché si trasforma una tettua che si presume autorizzata in una veranda, in un locale utilizzabile vero e proprio. Peggio che mai se questo spazio viene anche climatizzato. Lo possiamo vedere spesso questa tipologia nei locali di ristorazione, nei bar, nei dehors, però in questo modo andiamo a chiudere definitivamente uno spazio concepito per copertura di spazio aperto in un altro che invece è potenzialmente utilizzabile in maniera primaria, cioè come superficie utile vera e propria, anche climatizzato, perché poi se lo vai a chiudere con questi sistemi telonati eccetera, significa che poi adibirlo ad altri utilizzi in via primaria e permanente ed ecco che hai creato comunque una nuova volumetria ed ecco che hai trasformato una superficie accessoria in superficie utile lorda e allora serve il permesso di costruire. In questi casi, prima di fare questo tipo di trasformazioni, rivolgiti a un tecnico, ingegnere, architetto, geometra e fatti consigliare su quale autorizzazioni, permessi, titoli, pratiche edilizie sono necessarie onde evitare di entrare nei guai per accertamenti e denunce anche penali. Da Carlo Pagliani, ingegnere, architetto, è tutto. Mette un like e iscriviti al profilo canale. Ciao a tutti!